Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video e finalmente oggi concludiamo i bronzini ventesimo anniversario con Fenix Icky in edizione limitata con questa confezione a dir poco splendida dovrebbero essere tutte così e duri in poi le confezioni di questi meat eccolo qui nella confezione appunto direi di non perdere altro tempo se siete interessati ragazzi ad acquistarlo forse sono riuscito a trovare un'ultima copia scavando tra i vari fornitori fatemi sapere al più presto ma andiamo a vedere fuori dalla confezione ed eccolo qui il nostro Icky Fenix e tutti i suoi accessori andiamo subito a vederli cominciamo dalla solita base che è inclusa con questi cavalieri di ventesimo anniversario che ha la doppia possibilità di essere esposta così tutta intera oppure anche con la mini basetta che può essere sia questa che questa naturalmente anche questo si può incastrare qui quindi c'è questa possibilità di esposizione poi chiaramente è presente il totem eccolo qui della Fenice e già da qui si può vedere il colore questo colore argento perlato tendente un po' al bianco che secondo me è ottimo veramente per Fenix e qui abbiamo le ali con questo dorato e poi ragazzi abbiamo vari accessorini ovvero il parrucchino per esporre il nostro Fenix senza casco capelli più lunghi sul retro sempre per esporlo senza casco visi intercambiabili bocca aperta e con questo mezzo sorriso tutti e due con la cicatrice ovviamente e poi manine intercambiabili questi qui per impugnare le armi della bilancia queste qui chiaramente senza l'armatura questa qui unica per il fantasma diabolico e poi abbiamo queste qui invece a palmo aperto in questo modo qui e questa invece a palmo spalancato con plate aggiuntivi chiaramente che si possono intercambiare per ogni mano direi che è arrivato il momento di andare a vedere il nostro Fenix naturalmente ragazzi a fine video vedremo lui con tutti gli altri bronzini al completo finalmente eccolo qua ragazzi la colorazione devo dire che è splendida si era già vista sul totem questo colore tendente appunto al bianco tra l'argento perlato è veramente fighissimo secondo me è perfetto per questo Fenix il dorato molto figo con questa cromatura e il viola diciamo è rimasto più o meno lo stesso forse un attimino più acceso vedo che è abbastanza carico bello carico mi piace come l'hanno realizzato e qui vediamo anche la parte finale con gli spuntoni classici argentati sul retro e sul retro chiaramente abbiamo anche le code della Fenix chiaramente articolate con questi altri dettagli dell'armatura figata vediamo velocemente anche le articolazioni comunque la testa è molto mobile grazie soprattutto al collo in realtà le spalline queste sono divise in due pezzi articolati singolarmente questa è una figata si possono anche spostare in questo modo qui quindi molto ben articolato le braccia si possono aprire si possono muovere in avanti con butterfly joint insomma ragazzi come sappiamo questi bronzini sono veramente ben articolati guardate qua la coda come si splitta in tutte queste parti articolate le gambe chiaramente non fanno fatica a muoversi neanche verso l'esterno insomma sono super posabili bisogna stare chiaramente un pochino attenti per non sfregare l'armatura e non far saltare qualche pezzo però vedete le pose le può fare e come ed eccoci qui all'altro confronto che faccio sempre a sinistra abbiamo la versione revival al centro ovviamente ventesimo anniversario e a destra l'anime e ragazzi anche qui secondo me hanno fatto un bel upgrade resta molto figa anche la revival con l'argento però questo colore secondo me è più fedele appunto all'anime giudicate voi ovviamente fatemi sapere con un commento qui sotto misurazione dell'altezza come al solito i nostri mid questo non è x ovviamente sono alti sui 16 centimetri e mezzo praticamente 6 pollici e mezzo infatti a confronto con sh viewers sono più alti e a confronto con una legends più o meno stessa scala mafix e moneta spider man diamond select ed eccoli qua finalmente i 5 bronzini ventesimo anniversario che dire secondo me queste colorazioni nuove fanno veramente un figurone fanno veramente un figurone come ho detto secondo me sono più fedeli all'anime e andavano presi andavano presi chiaramente ha senso anche avere entrambe le versioni ovvero queste e i vecchi revival perché magari questi qui ma li tieni così e gli altri li posi sul totem quindi puoi avere sia il cavaliere che il totem e diciamo che va a scelta del collezionista comunque ragazzi sono veramente fighi non vedevo l'ora di vederli tutti insieme sono davvero soddisfattissimo fatemi sapere cosa ne pensate di queste di questi nuovi bronzini ventesimo anniversario con un commento qui sotto il like al video è sempre bellissimo così come anche la condivisione vi ringrazio da sempre per la visione ciao da alla collezionata sempre grazie a tutti